Smontare i problemi, trasformandoli in elementi discreti, puntuali, classificabili, come vi dicevo, in parti vive, la logica dei sistemi mi porta poi a pensare al progetto come un atto complesso di costruzione di reti, di relazioni, di legami viventi. Per rappresentare questo gruppo vi ho portato due progetti. Uno è questo, che è l'installazione per la medaglia d'oro alla triennale di Milano. Cosa significa ragionare per sistemi? La necessità, il problema qui era esporre, non era neanche un grande problema, però è esemplificativo, esporre 40 architetti contemporanei italiani, che a loro volta avevano 40 fotografi con 40 tipi di immagini diversi, tutti i modelli, eccetera. E tutto quanto poi doveva essere impacchettato e essere spedito all'Expo di Shanghai. La mia idea è stata quella di lavorare su un modulo ripetitivo, che potesse essere montato, assemblato e costruire un grande spazio, come una grande nuvola che tutto conteneva al suo interno. Allora, in maniera un po' ossessiva, abbiamo studiato la geometria di questi piccoli elementi e fatto in modo che da un unico elemento fosse generato un enorme spazio e poi potesse essere rimpacchettato in due grandi scatole di 4 metri per 2. Il risultato che vedete è stato molto affascinante, è stata una scoperta. Questo è l'altro progetto che utilizzo per parlarvi dei sistemi ed sono degli impianti di una società petrolchimica, che fa impianti petrolchimici, che si chiama ASEA Bramboveri, che mi ha chiesto uno studio per mitigare visivamente l'impatto di questi impianti in tutto il mondo, per cui in aree geografiche molto diverse tra loro, dal Medio Oriente all'Asia al Nord Europa. Avevano dato tre impianti diversi in tre aree geografiche. Io invece ho studiato un sistema unico per tutte quante le aree geografiche e anche per i diversi momenti in cui un architetto può interagire con un progetto così complesso, un processo così complesso. Sono impianti molto vincolati dal punto di vista ingegneristico, della sicurezza, per cui non si possono dare delle forme o delle distanze alle cose in maniera legata alla qualità architettonica e spaziale. Allora, come intervenire in una situazione di questo tipo? Ancora una volta abbiamo studiato un sistema di elementi, introducendone uno nuovo, una sorta di prototipo. L'elemento nuovo è lo spazio dell'uomo. All'interno di questi impianti c'è la presenza umana che viene nascosta un po' da questi enormi macchinari. Allora abbiamo pensato di costruire un landmark che fosse più grande degli impianti e che fosse un grande spazio vuoto che in alcune aree geografiche è un giardino e in altre è un giardino delle ombre con un clima più appropriato che radunasse tutti i piccoli edifici che contengono al loro interno gli uomini. Questo è il risultato. È un sistema di quintature che circondano in diversi modi, a seconda del tipo di impianto, le macchine. E quello che vedete, il landmark, è un patio che è quello di cui vi parlavo. Ecco, queste sono le diverse strategie per cui, a seconda dei punti di vista del tipo di impianto, interveniamo con delle quintature che non nascondono del tutto gli impianti ma entrano in gioco con gli impianti e con il contesto, visivamente. Queste sono varie strategie utilizzando pochi elementi o tanti elementi. Un'altra volta è la costruzione di una sorta di libro per discutere poi con i committenti per gestire il progetto. E questi sono i parti centrali che diventano gli spazi con la presenza umana ma anche quelli più significativi dell'impianto ma dando in secondo piano le macchine. E sempre nel gruppo dei sistemi quest'altra situazione Generali Properties voleva realizzare in un sito non particolarmente bello delle case di alto livello di alta qualità per cui un condizionamento diciamo economico e di situazione di contesto. Allora l'idea è stata quella di lavorare sull'assemblaggio di ville unifamiliare un po' come non so se conoscete la casa della meridiana di De Finetti a Milano l'architetto allievo di Adolf Loss. E questo modo di ragionare ha prodotto questo risultato che può piacere o non piacere ma ve l'ho portato per parlarvi di come una logica dei sistemi porta poi a un progetto. un terzo gruppo di progetti che ho intitolato Hacking vuole parlare di se i legami devono essere legami viventi come dicevo prima per i sistemi gli spazi devono essere attivati questi sono una serie di progetti dove prendono forma le relazioni tra le persone cioè sono i movimenti delle persone i comportamenti delle persone che danno forma all'architettura e agli spazi. ho messo questa immagine per rappresentare questo concetto è la scenografia per il Fidelio di Beethoven con la direzione di Daniel Barenboim che ho fatto alla Stazoper di Berlino nel 97 allo Châtelet di Parigi qualche anno dopo e poi a Gerusalemme per i tremilani della città ebraica. e vedete come il Fidelio è un'opera che parla del cambiamento il veloce cambiamento dei ruoli di potere una persona estremamente potente in pochissimo tempo per la forza dell'amore di Fidelio si trasforma invece in poco potente. Allora l'architettura di questa scenografia voleva in maniera statica dare la possibilità di cambiare l'importanza dei personaggi e così in 14 metri di profondità le figure umane appaiono gigantesche o minuscole qui davanti nel boccasceno. Questo è per spiegarvi cosa intendo per dare forma ai comportamenti delle persone. Questo è un progetto che ho fatto è un concorso per la Spezia è stato istituito da una fondazione d'arte e l'ho fatto assieme ad un artista che si chiama Karsten Nicolai un artista tedesco che si fa chiamare anche Alva Noto è un musicista che lavora con Sakamoto e musicista elettronico assieme abbiamo pensato a un sistema di elementi di parti che compongano questo spazio pubblico uno spazio pubblico per me deve essere leggibile e nella qualità della sua leggibilità risiede il suo livello di appartenenza cioè più leggiamo gli elementi che compongono il funzionamento di uno spazio pubblico più ci sembra nostro in più questo progetto è stato fatto su un'area che adesso è semplicemente un passaggio di macchine un grande largo che però è geograficamente lo sbancamento di una montagna per costruire la città all'inizio del novecento è stata tagliata un pezzo di montagna siamo vicino al mare vicino al porto ma dietro e questa parte è stata di città è stata conquistata la montagna togliendola volevo ridare questa idea di geografia costruendo una microgeografia quelle linee bianche in realtà sono microgradini di un centimetro e poi ci sono degli avvallamenti delle conche o dei dossi che ricostruiscono una specie di geografia perché volevo che si sentisse quasi la valenza geografica di questo suolo questo suolo che è una grande predisposizione ancora una volta per i comportamenti delle persone che si radunano attorno a una lampada che si siedono sui gradini di un palazzo di un architetto fascista sono le poste abbiamo pensato che ci fossero già i gradini delle poste per potersi sedere non abbiamo aggiunto altri elementi ma abbiamo lasciato questo grande spazio vuoto e abbiamo aggiunto soltanto degli elementi luminosi e una specie di recinto aereo come un limite visivo che appunto vogliono determinare questo spazio senza imporre alcun comportamento ma anzi agevolando i comportamenti naturali un po' come appunto sedersi sui gradini di una scala un altro edificio questo realizzato ormai tanto tempo fa progettato dieci anni fa finito di realizzare nel 2007 prende origine da quest'idea di voler dare spazio ai comportamenti delle persone questa è la sede della Zurich Assicurazione la sede centrale italiana ci abitano e lavorano 1500 persone tutti i giorni la mia idea era quella di non far entrare la gente da una porta e farli sedere alla scrivania ma di costruire una narrazione dei comportamenti allora questa grande massa è stata sollevata è stato creato questo vuoto nel quale i comportamenti possono avvenire e sul piano terra c'è una galleria pubblica o semi pubblica che viene lasciata aperta durante il giorno e nella terrazza superiore che in realtà è una grande piazza ci sono tutti tutte le attività comunitarie della società per cui la mensa l'auditorium una piccola palestra le aule per i corsi di formazione e questa vitalità del basamento è diventata la narrazione dell'ingresso al posto di lavoro ed è anche un sistema per includere il contesto attorno l'edificio in sé ha una grande corte centrale un grande vuoto che poi vedremo completamente trasparente dove le persone tra loro si vedono mentre lavorano e poi è composto da delle lame come a costruire una piccola cittadella una micro urbanità attorno poi sono state costruite altre cose importanti e grandi per cui il contesto che vedete adesso è diciamo così sovrastato ma non è non è più così adesso questo è il lavoro sul basamento ed è come se quando mi hanno chiesto di fare questo progetto avevo fatto il master plan di tutta l'area e ho fatto in modo che tutta l'area che era un'ex area industriale fosse trasformata in un giardino urbano con gli edifici attorno non l'ho riempita e da questo giardino ho provato a continuare il percorso naturale passando come un tappeto naturale sotto l'edificio e per cui il basamento è costruito rivestito con un tuffo una pietra tenera che si muschia d'inverno diventa verde completamente verde e lì vedete il gioco degli sguardi all'interno di questi passaggi il passaggio pubblico il passaggio comunitario e poi gli uffici questo è quello che vi dicevo prima cioè è una macchina degli sguardi anche e dentro ci sono questi strati che vediamo simultaneamente a rappresentare una vitalità degli spazi questa è la grande terrazza comune al primo livello e queste sono una serie di foto attorno all'edificio a rappresentare la vitalità dell'edificio sono persone che hanno delle attività lì attorno che passano che devono passare all'interno dell'edificio questo è un altro piccolo lavoro ancora in cantiere ed è la sede della Foster Wheeler è una compagnia di ingegneria americana che mi ha chiesto di sistemargli questi due grandi edifici e questa grande portineria davanti e qui li ho convinti a costruire un oggetto intermedio che unisse fisicamente gli edifici e prendesse forma proprio dai naturali movimenti delle persone ho portato pochissime foto perché è proprio ancora cantiere e solo per mostrarvi in maniera esemplificativa cosa intendo ecco questa è una foto e questa è un'altra piccoli filamenti nervosi è molto divertente quando è tutto in funzione per cui è come fossero su delle passerelle o dei palcoscenici e tutti si intrecciano in questo in questo strano meccanismo questo è un progetto di un concorso internazionale bandito dal comune di Milano a cui ho partecipato sono stato selezionato tra gli ultimi dieci e adesso non faranno più niente pare questo velodromo non è più utilizzabile perché la pista è più corta di tre metri rispetto agli standard contemporanei è lasciato in degrado è un'edilizia minore una piccola infrastruttura fatta in maniera molto povera l'oggetto più prezioso è la pista in legno all'interno che però è lasciata in degrado allora hanno chiesto anche lo studio di un programma come rendere gestibile una possibile trasformazione di questo di questo grande edificio io ho proposto che diventasse una piccola cittadella dello sport lasciando la pista così com'era e lasciandola a disposizione di chi vuole provare questa ebrezza di fare una pista molto difficile da utilizzare perché da velocità ci sono delle pendenze molto importanti non è fattibile da un principiante però tutto l'edificio è stato aperto sventrato lasciata solo la struttura che tiene le tribune un po' come le sostruzioni di un colosseo di un di un di un anfiteatro è stata svuotata e aperta in maniera reattiva al contesto il contesto è fatto da un grande progetto di sviluppo che si chiama City Life che forse conoscete fatto da Toll fatto da Zadid Libensky Inderati Sozaki e da una tutto il tessuto urbano del novecento del piano Beruto questo edificio che aveva questa forma ad anello ha reagito ad ogni punto della città creando delle relazioni con quello che incontrava e una grande piazza coperta costruisce il rapporto invece con il tessuto urbano dei percorsi una piazza pubblica che può essere data in gestione a dei mercati temporanei sempre questo per far rientrare nel bilancio economico dell'utilizzo degli spazi pubblici un intervento di questo tipo un'altra volta elementi una serie di elementi messi a sistema che costruiscono questo spazio per cui dove c'era la facciata originale storica la struttura si interrompe e lascia fa diventare l'ingresso principale in altri lati invece si semplifica come una grande pensilina che copre tutto l'edificio però lasciandolo a vista quasi fosse una basilica palladiana o un edificio di Albert Sper per le Olimpiadi e poi questa grande piazza coperta che diventa lo spazio pubblico di rappresentanza che può essere utilizzata anch'essa per lo sport il palladio museum palladio museum è un progetto estremamente difficile è all'interno di un palazzo di palladio che si chiama barbaranda porto quasi finito come fare un museo di architettura all'interno di un edificio di palladio su palladio nella città di palladio quando basta percorrere le strade della città per vedere tutti gli edifici la strategia è stata mostrare l'edificio stesso mostrare tutti gli studi del centro internazionale di architettura che è ospitato all'interno di questo palazzo dagli anni 50 i più grandi storici dell'architettura del mondo si incontrano una volta l'anno e discutono dell'architettura della storia dell'architettura e dell'architettura contemporanea all'interno di questo palazzo allora volevo fare in modo che questa cosa si sapesse e che quello che viene discusso fosse mostrato per cui volevo mettere in scena proprio loro i loro pensieri per cui ho trasformato il palazzo in una specie di backstage non ho voluto fare un arredamento museale del palazzo ho voluto che le misure e le proporzioni del palazzo rimanessero pure per cui mettere in scena il palazzo ho studiato una serie di elementi che abitassero le stanze e fossero leggere all'interno di questo palazzo facilmente spostabili ho sistemato l'intero palazzo dal punto di vista degli impianti per cui è possibile utilizzare tutti questi sistemi di illuminazione o digitale in tutto il palazzo e poi ho lavorato come appunto fosse un backstage di un palcoscenico come se le cose fossero ancora da mettere in scena e poi ho messo in scena loro cioè con delle videoproiezioni sui muri di intonaco appaiono questi piccoli geni che raccontano stanza per stanza i temi palladiani queste per esempio sono le sagome di tutti gli edifici di Palladio sono le sagome che utilizzavano gli scalpellini per costruire le trabbiazioni e in quest'ottica anche il cancello è diventato uno degli elementi della costruzione del museo prima era un portone opaco ottocentesco l'ho sostituito con questo cancello che lascia vedere l'atrio e il cortile interno e poi ci sono loro questi piccoli genietti che raccontano stanza per stanza quello che in quel momento si vuole mostrare perché ho curato assieme al direttore del centro palladio anche il programma una specie di essendoci poche sale i temi palladiani possono essere cambiati periodicamente questo per esempio è la sala su Vicenza come vi dicevo una città ricchissima tutti i palazzi che sono stati costruiti al palladio qui sono stati fatti per le varie famiglie che erano quelle che esportavano la seta e qua dentro incontriamo i bacchi da seta cioè gli animali che hanno fatto la fortuna di questa città e nel cortile ho piantato un gelso che è la pianta con cui i bacchi si alimentano vedete anche le didascalie tutto all'apparato grafico è come se fossero degli appunti dei grandi ho fatto come dei tacquini di notte di appunti sono degli oggetti in plastica con questa forma e queste sono le teche che custodiscono i disegni originali di palladio che anch'essi sono come annotati vedete sono come in fase di studio non sono esposti come qua quadri o oggetti da venerare ma sono strumenti di studio questa è la grande sala delle ville che adesso verrà cambiata con altri temi legati alla guerra perché palladio ha disegnato anche libri di disposizione militare e questa è la sala della rotonda la rotonda è il modello assieme ai quattro libri di palladio che ha fatto la fortuna di palladio è l'edificio più copiato al mondo negli anni sino ad oggi e qui ho messo in scena una slot machine che mette assieme tutte le varie rotonde nel tempo e nello spazio dove ci sono i progettisti i progetti l'anno e la zona in cui è stato realizzato il progetto l'ultimo progetto è alla triennale di Milano per il design triennale design museum ed è ancora una volta una slot machine mi è stato chiesto di lavorare sui maestri del design italiano del dopoguerra in Italia è avvenuta una cosa molto particolare nel dopoguerra una serie di personaggi Carlo Scarpa Zanuso Munari Gio Colombo Ettore Sozzas hanno deciso di ricostruirsi un proprio mondo di riferimenti viaggiando e guardandosi attorno in diversi modi Ettore Sozzas ha deciso di guardare la cultura americana la beat generation e la pop art e il mondo invece diciamo più mistico dell'Oriente l'India in particolare e la Birmania mi interessava perché questo strano fenomeno ha generato non una scuola italiana ma tanti individui singoli con propri sistemi di riferimento allora volevo come recuperare un'altra volta e fare un archivio di questi possibili riferimenti che ha adottato Sozzas e ho costruito un abaco di elementi allora Sozzas voleva tenere anche lui tutte le identità del presente assieme voleva costruire una nuova possibilità per il nostro presente e l'ha fatto anche lui andando a cercare ovunque questo presente sono famose le fotografie di Sozzas in America e poi in India e in Birmania e tutto includere cioè tenere da i polli nei supermercati americani e i fiori nell'angolo delle strade di Benares e fare di tutto un grande sistema rigenerativo dei simboli e dei riferimenti e per fare questo ha messo assieme un grande apparato iconografico e ha deciso che comunque l'unica cosa che poteva tenere assieme tutto fosse l'idea di erano usciti dalla guerra in maniera devastante gli italiani per cui Sozzas è stato anche in guerra visto morire i propri compagni per cui l'idea fissa era quella di andare oltre alla morte era quella di rivestire di vita la morte ed è per quello che la stanza è rivestita con le pareti sono rivestite con una carta da parati che associano figure erotiche persiane e un erbario delle piante che mettono in scena l'energia della vita e invece all'interno della slot machine e all'interno di un libro digitale che è possibile consultare sono assemblati tutti i mondi e le genealogie formali e simboliche che ho ricercato e ho messo assieme nel grande costruendo una grande mappa simbolica prendendo come scusa Sozzas e queste si muovono all'interno di una grande slot machine e vedete come le figure delle donne che portano grazie a tutti